Come dice Paola, gli uomini vanno tenuti al guinzaio. Io non sono d'accordo. Ciao a tutti i cinefili e le nonne! Ciao a tutti i cinefili, eccoci qua di nuovo per commentare un altro episodio di X Factor 2024, è stato ieri sera, l'altro è un attimo tardato ma spero l'abbiate recuperato, se no andate a vederlo in live 2 perché eravamo a Lucca ma in maniera super professionale dato che l'avete apprezzato, l'abbiamo inserito tra i vari format nostri, quindi andate a recuperare quello come il primo che era un po' l'esperimento e se siete nuovi passati di qui mi raccomando noi parliamo principalmente di cinema e serie tv ma spatriamo anche nell'arte tutta e mi mi raccomando seguiteci, iscrizione al canale, like, condivisione dei contenuti importanti e mi raccomando seguiteci anche su tutti gli altri social, TikTok, Instagram eccetera, Medrainotto, Letizia Rogolino o Medrog è il nostro progetto, mi raccomando grazie mille per il supporto, è gratis, mi raccomando non vi cambia niente, esatto. Detto questo allora l'abbiamo visto quindi ieri sera e come sempre intanto voi fateci sapere qui sotto mentre parliamo le vostre sensazioni di questa terza live e come sempre abbiamo iniziato questa cosa, la continuiamo, qual è il vostro giudice preferito e quello che vi è piaciuto meno della puntata e stessa cosa gli artisti. Io continuo a spezzare una lancia intanto per il look di Lauro ieri con questa pleccata di mucca, il capello all'indietro e soprattutto appena sceso dalle scale ho detto questo è un pigiama da mascato dorato insomma che infatti Jake Lapuri ha detto subito la vestaglia, diciamo l'idea era quella. Jake invece con quel cappello, dopo quando si è messo gli occhiali diciamo da sole stava meglio ma così quel cappello tutto nero sembrava un po'. Ma io ho detto poi come è fatto tenersi il cappello tutta puntata perché non l'ha mollato un attimo insomma. Beh di solito ce l'ha ma quello insomma un po'. Sì forse però la visuale è un po' più difficoltosa. Allora prima cosa siamo partiti a noi piaceva sempre lo stacchetto di Giorgia, peccato questa volta non c'è stato per dare spazio alla vincitrice dell'anno scorso che come abbiamo detto nell'altra live io almeno non seguivo questo programma se non ho visto pezzetti o le audition che mi piacevano e quindi non la conoscevo Serafine credo si chiama, cioè si dica proprio così. E quindi ha fatto lei l'esibizione molto house, dance, molta discoteca perché poi appunto la serata era disco come tema e quindi mi è piaciuto il fatto di fare una live tematica però ecco a volte ovviamente ci sono stati qualche, alcuni caduti. Sì perché ci sono ovviamente dei tipi di artisti quest'anno che non abbracciano molto la dance e è poco anche, sto riflettendo settimana dopo settimana di quanto sia sensato in realtà fargli espatriare così tanto dal loro genere perché va bene essere versatili però come nel cinema diciamo sempre in realtà c'è anche l'attore che sa fare quello e fa quello tutta la vita è uguale l'artista un Daniel fare la dance lo vedo proprio una cosa anche fuori luogo poi ci sta mettersi alla prova eh niente da dire quindi carine da vedere. Sì magari l'intrattenimento è un po' un gioco sanico. Sì sì ci sta ci sta magari fa curiosità ecco. Fa parte del programma. Quindi niente partiamo vabbè l'esibizione iniziale ok, Giorgia sempre molto brava nella conduzione e poi niente i vari giudici, come nell'intro avete visto allora Paola ha sempre tirato fuori le sue perle. Poi mi fa ridere che appena c'è un momento un attimo di stasi che non si capisce bene che cosa sta succedendo e lei fa l'applauso a Giorgia. Mi facciamo una frase a Giorgia. Non c'entra niente però deve spezzare un po', deve romper il ghiaccio così. Ieri più svestita che mai e poi svestiti in realtà ci sono state altre persone perché partiamo da questo cioè dai pancake che così hanno oltre ad essere sempre un po' pazzoidi in realtà c'è stata anche questa sorpresa che dal nulla a un certo punto dallo smoking che aveva perché doveva essere il più serioso del gruppo se l'è completamente tolto il frontman ed è rimasto agitando le natiche. A chiappe nude, andando anche dai giudici così. Sì, proprio sul tavolo, diciamo ha creato scompiglio e poi si sono divertiti tutti. Sì, anche perché diciamo che è in linea con il loro stile quindi ci sta. Sì, le sonie che la ragazza vestita da suora insomma ma comunque è una sorta di Sailor Moon che ha detto che non era Sailor Moon però. Che poi mi ricordava sempre al cinema le associazioni mi ricordava un po' il chitarrista di Mad Max è quello col fuoco perché se vi ricordate se avete visto bene lei ogni tanto faceva giù così mentre suonava e la insomma la parte del non so come si chiama della suora. Comunque insomma andava giù e quindi se la ritirava suba carina anche come cosa. Sì, comunque insomma loro alla fine appunto hanno fatto dire pure le registrazioni che Emanuele diceva che buttano fuori la secondo live invece ancora resistono e infatti visto che sono rimasti c'è stato Damiano lì che ha detto il frontman e ha detto ancora! Perché diceva? Ci tocca ancora stare qua perché ormai saranno un po' scaramantiche la cosa però esatto. Dice piano piano guarda dove arrivano insomma. Noi per quanto siamo malati guardiamo giù perché ci prendiamo gli appunti anche durante X-Fact non solo durante i film e le serie. Invece a proposito visto che noi siamo cinecili abbiamo apprezzato sicuramente il look di Mimi perché appunto era questa versione Kill Bill al contrario proprio per i colori. Bello, bella come idea. La tuta di Uma Thurman in Kill Bill è gialla e con le strisce nere invece lei era più nera con i dettagli gialli. Con tanto di katana e Manuel quando l'ha introdotta ha fatto l'accezione a Kill Bill ma io pensavo fosse così Invece quando è entrata è fantastico quindi ha esordito lei, ha aperto la serata, brava, brava e una bella edizione mi è piaciuta e poi mi è piaciuto, ho subito avuto l'occhio infatti dopo Giorgia aveva confermato che non erano ballerini il corpo diciamo chiamiamolo di ballo che erano insieme a lei nell'edizione ma erano veri atleti dei taekwondo e quindi infatti mi è piaciuto molto perché insomma vedevo le mosse che erano molto secche insomma io lo so c'è molto al karate perché avendolo fatto per diversi anni vedevo delle mosse simili, vedevo che il calcio non era di un ballerino ecco però in realtà poi c'erano altre cose insomma è stata bella bella, mi è piaciuta poi c'è stata la prima nota diciamo un po' più critica, i patagarri che allora a me stanno molto simpatici e fanno colori nel senso che comunque sono un po' la nota stonata in questo contesto qui come diceva Lauro all'epoca quando le hanno presi insomma quindi mi piace sicuramente come cioè che sono comunque un po' diversi che guardano un pochino al jazz al blues questi generi musicali un pochino sempre meno commerciali in Italia e quindi apprezzo sempre le loro performance però questo questa versione di appunto qual'era la canzone? Staying Alive ecco quella mitica il sabato sera non ci è piaciuto purtroppo è proprio lì che abbiamo diciamo partorito una riflessione cioè che poi era abbastanza intuibile però il fatto che toccare dei cult di questo genere così tanto iconici e farli diventare in tutta un'altra salsa fa sì che inizialmente subito rimani stordito e è difficile che ti piaccia subito poi se sono particolarmente bravi l'hanno diciamo amalgamata in un certo modo potrebbe piacerti come è stato per Mimi ma ancora di più dopo vedremo per altri ma loro che il loro genere l'hanno voluto insomma insieme a Lauro far abbracciare diciamo il loro genere blues, jazz eccetera con una dance sono due generi che secondo me si scontrano proprio poi Staying Alive che a me invece è tantissimo l'originale sentirla in quel modo io veramente non ce la potevo fare ma per esempio Paola ecco quello che è piaciuto a Paola a me proprio non forse è una cosa che non mi è piaciuta di meno il fatto proprio di quello ah 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 così sul ritornello quindi c'è troppo pure non lo so un po' contaminato in modo si influenza un po' nel senso del risultato finale non l'ho percepito molto convincente sempre bravissimi musicisti perché questa cosa viene sempre fuori loro a livello musicale proprio a suonare sono davvero bravi pazzeschi però ecco non abbracciava con questa linea dance poi c'è stata l'ora l'ora c'è stata anche la battuta di Giorgia sì che l'ho scritta che quando ha finito doveva dare la parola a Achille Laure e gli ha detto loro che ci dici? vabbè non mi è piaciuta come battuta è una cosa chic e nel vero ha fatto All The She Once è una versione un pochino poco diciamo si discostava poco dall'originale però è quanto basta per essere un pochino un pochino non lo so stridula per me cioè nel senso che boh mi ha convinto del tutto anche se un po' più delle altre volte nel senso l'ho vista un pochino più come hanno dato pure i giudici un pochino più padrono di se stessa che loro gli recriminano sempre questa mancanza di personalità qui forse sì è venuta un pochino più fuori rispetto alle altre volte però sì secondo me ci sta anche perché comunque il suo genere un po' hip hop così con diciamo la dance un po' a braccia non è che stonasse molto il divario ecco come per i patagarri però diciamo che vabbè non è la mia preferita sinceramente lì dentro però comunque come hanno detto poi durante la serata lei è fatta e finita cioè nel senso lei potrebbe uscire adesso da X Factor e potrebbe già avere una strada ovvio deve trovare sue canzoni qualcuno qua nei commenti della scorsa live ho letto e risposto ci diceva che ha una personalità e ha i suoi pezzi ha le sue cose qui ovviamente deve stare a quello che gli danno i giudici è vero anche questo questa è una cosa ovviamente sempre da tener conto quello che vediamo noi nei serali sono ovviamente frutto di quello che deciso in settimana e loro stanno a quello che il giudice maestro gli dice quindi c'è sempre questa cosa da pensare però non lo so bisogna sempre anche vedere che cosa vuoi tirar fuori da X Factor quest'anno vuoi tirar fuori quello più che abbraccia di più il mercato che c'è adesso in giro oppure vuoi tirar fuori la voce fuori dal coro che però è veramente un artista con una chiave personale che è super riconoscibile sono due cose completamente diverse cioè l'ora potrebbe essere la pop star di subito fatta e finita altri invece e io vado più su quella linea sono quelli che mi piacciono perché hanno una voce e una vocalità magari completamente diversa che non ho mai sentito e sono particolari io infatti sono d'accordo quando Jake Laforia dice appunto che lei è pronta per buttarsi nella mischia però in realtà secondo me si perderebbe nella mischia si perde nella mischia perché comunque non ha questa particolarità né come non lo so per me né come timbro di voce né come stile quindi non lo so soprattutto in Italia sì io mi sono scritto una citazione che qui c'è Manuel perché poi a volte ossero perché c'è l'ora a quanto posso vedere io secondo me è completamente l'artista più diametralmente diversa da quello che Manuel è cerca voi esatto e quindi infatti il suo discorso è stato non un vero e proprio complimento ha detto sei stata sì hai fatto quello che dovevi di qua di là e ha detto anche sei diventata un po' contenta mi è piaciuto questo sei diventata un po' contenta che non vuol dire niente però sì però magari perché lei è sempre molto concentrata sembra sempre molto concentrata su quello che deve fare su portare a casa il compito sì secondo me magari non sembra trasportata dall'evento cioè dall'emozione del momento sì il suo discorso di Manuel dice che abbracciava completamente quello che poi penso io cioè lei ha detto ha praticamente fatto quello che doveva però non è una cosa che abbraccia il mio gusto e quindi è la stessa cosa ha detto Manuel cioè non sentiva di fare cioè era un complimento per quello che poteva arrivare a fare nel senso hai fatto quello che dovevi sei stata brava in quello che hai fatto però non piace a me cioè nel senso non ti posso dire che non sei stata brava perché lo sei ma vabbè finili dopo i patacarri continuando concludendo con le band facciamosi pario cioè parentesi band e perché le Fuzz a me questa volta mi hanno convinto che l'hanno fatti i neri questi inglesi un'altra volta invece questa volta ci stavano come appunto questa canzone di Donna Summer versione appunto più rock e per me hanno funzionato lui l'ho visto molto di front ma l'ho visto padrone della scena perché insomma ha girato quella abbastanza convinto mentre appunto teneva il canto e lui vari musicisti non so ma l'hanno abbastanza convinto come per questo Mazzacco sì Hot Stuff è una canzone molto bella iconica che come dicevo prima alcune non abbracciano la dance questa qui rivisitata in chiave un po' rock ci sta da dio quindi secondo me se non è stata l'esibizione migliore forse è stata la seconda migliore comunque mi sono piaciuti tanto sì a me poi ci sono piaciuti penso entrambi i Levotips che continuano la loro scalata con la fronte scopetta che tra l'altro sta anche bene secondo me sta meglio anzi che con i capelli come li ha di solito ma vabbè però io lui lo trovo molto è come se si trasformasse un po' rispetto a quando diciamo nella vita reale rispetto a quando sali sul palco del frontman lo trovo molto proprio padrone della scena carismatico voce potente una voce che proprio alterna toni bassi alti di modulazioni diverse però sempre molto padrone di se stesso molto molto padroni bravi e maturi anche a suonare quindi insomma mi è piaciuta questa performance anche You Make Me Feel mi sembra la canzone e anche qui abbracciavo molto la sonorità con un po' la loro e invece per andare Daniel Daniel purtroppo questa volta Corelli mi ha fatto un po' tenerezza perché appunto forse è l'esempio più eclatante di quello che dicevamo poi l'ho citato all'inizio nel senso che lui ha veramente un timbro vocale e diciamo anche un percorso che vuole fare che giustamente vuole fare quel percorso lì che è totalmente differente dalla dance anche dall'inglese perché infatti ieri sera Manuel ci teneva a sottolineare la cosa che lui è uno dei pochi che canta solo in italiano che si scrive le canzoni quindi autore insomma è un panorama che oggi non si trova troppo è una voce molto particolare e quindi ovviamente ieri sera non ha dato il meglio anzi ha stonato anche a volte non era poco bello da sentire la scelta di Saliroti di Daniel Silvestri per lui io non mi ha fatto vada proprio fuori in contesto ecco forse era meglio farlo cantare in inglese cioè provare è una cosa diversa proprio però è vero anche che è vero anche che Manuel come anche gli altri hanno cercato di giustificare nel senso bravo che ci hai provato bravo che ovviamente ci sei messo alla prova hai fatto quello che potevi per quello che sei e la tua vocalità è proprio che quella sola diciamo è che appunto magari gli altri gli è venuto un po' anche il meno peggio gli è venuto meglio di questa sua versione il problema qual è e qui richiamo anche la vostra attenzione mi raccomando qui sotto nei commenti diteci anche le varie sensazioni ma anche questa cosa qui cioè qui si torna alla riflessione del tipo va bene esplorare fare cose nuove però poi c'è il rischio di andarsene via perché comunque ieri sera danielle che secondo me dovrebbe rimanere lì fino alla fine ha comunque molto rischiato perché comunque avendo fatto una prova non alla grande perché si è messo alla prova in un genere che poi non vorrà neanche mai più fare sicuramente nella vita alla fine rischia di andare via dalla puntata quindi è sempre un'arma cioè va bene esplorare però ecco a proposito facciamo pure la nota critica sull'auro che ieri il tilt ci piace di solito però il tilt non l'abbiamo capito o meglio forse ha voluto allungare un po' la puntata forse non lo so però non l'ho trovato una cosa molto giusta il fatto che appunto arrivati alla scelta finale dovendo avendo essendo arrivati a un 2-2 o meglio 2-1 lui invece che prendersi la responsabilità dico nella scelta dell'eliminato invece che prendersi la responsabilità che la sua scelta sarebbe stata quella che avrebbe mandato sicuramente a casa Elma invece cosa ha fatto ha detto do la parola al pubblico e quindi ha tirato fuori questo tilt non decidendo insomma non l'ho trovata una scelta troppo coraggiosa che lui invece dimostra sempre molto coraggio non l'ho trovata neanche troppo giusta appunto perché nel senso siamo lì siete lì per giudicare non è che dici oh se adesso dico appunto Elma va via ho capito sei lì per quello più che altro penso che l'indecisione di questo tipo subendo un po' più avanti adesso ancora di livello inferiore ma ieri almeno posso sbagliarmi ma secondo me è stata proprio una cosa del tipo non voglio prendere responsabilità perché è chiaro che lui avrebbe scelto Daniel appunto e quindi non è da dire non è da dire sono indeciso lascio al pubblico è un non voglio scegliere lui perché la mando a casa allora facciamo scegliere ad altri non è una gran scelta anche perché sei lì sei un giudice secondo me può venire un po' più avanti quando sarà veramente più una sfida più dura ecco e in tutto questo si è appunto rischiato che il pubblico magari decidesse Elma che va bene non è che non doveva per forza uscire lei però comunque nel senso se capite tutti i giudici o comunque insomma è abbastanza chiaro che secondo me Elma fosse meno è meno pronta per uscire allo scoperto è ancora giovane e in più è appunto anche lei una pop star ma ha bisogno di maturare lo stessa cosa vale sicuramente per Daniel però è veramente un'anima artistica personale e quindi insomma rischiare che il pubblico dica no voglio la pop star e mandava a casa lui solo perché Laura non ha detto la sua cosa quindi non mi è piaciuto tanto ed è per questo che cambierò giudice preferito stasera e a proposito di Elma appunto ha fatto Madonna che molti hanno paura perché comunque è un colosso da sperimentare e invece pure a me io ho sempre criticata perché non mi ha mai convinto con queste esibizioni sempre un po' statiche un po' con la pop star e invece qui l'ho vista un pochino venire fuori peccato appunto che sia stato gli ultimi fuochi però mi ha convinto cioè dall'inizio questa è la performance che mi ha convinto un po' di più perché finalmente ho vista padrona della scena un pochino più sicura di sé sul palco nel ballo un po' più protagonista ecco nonostante poi tutto il corpo di ballo e tutta la scenografia che comunque era sì sì non è scomparsa quindi sì concordo Tananai ospite secondo ospite diciamo dopo la vincitrice dell'anno scorso che c'è stata all'inizio a me non piace tanto Tananai quindi vabbè esibizione insomma se vi piace vi sarà piaciuto non c'è tanto da soffermarsi mi piace questa frase sogno lucido quando performi che ha detto Laura ha detto Laura così parole a caso cioè nel senso sono quelle parole molto poetiche insomma che dentro racchiudono un significato a me è piaciuta insomma come associazione di parole e abbiamo Lorenzo Salvetti che ha fatto Celentano con Cagliamori insomma questo sempre per cantare in italiano è abbastanza simile all'originale come arrangiamento e a me è piaciuto anche se anche perché è stato un po' più brioso del solito perché appunto è sempre un pochino drammatico queste scelte appunto da cantautore insomma sofferto che comunque c'è 16 anni quindi appunto si è dato un po' una botta di vita e comunque funziona anche appunto suonando la chitarra eccetera mi ha convinto concordo e francamente poi dopo c'è stata francamente con Gigi D'Agostino per chiudere che a me è piaciuta molto sì sì lei è sempre molto brava lei è sempre un pochino scrollata di dosso questa infatti dice pensavano tutti è una scelta sempre acustica o così un po' poetica invece cioè pure lei si è mossa sul palco insomma è stata più dinamica e partecipativa ecco esatto ti è piaciuta quindi lei si è sempre molto brava vai reso conto finale migliore e peggiore artista migliore e peggior giudice beh allora io sicuramente mi sono piaciute cioè di più francamente le votives ieri sera insomma per questa versione dance peggiore e peggiore e peggiore purtroppo Daniel nel senso perché non sì cioè non mi ha convinto proprio questa scelta giudici e giudici eh Manuel ieri Manuel mi è piaciuto insomma le varie uscite peggiore anche per simpatia e tutto e vabbè peggiore è sempre ma ecco è un peggiore ma sì nel senso no per la fine mi piace perché fa colore nel senso che c'ha delle uscite sue Jake là fuori l'ho trovato un po' troppo polemico ieri io lo trovo sì rispetto al solito io parto da qui dicendo che anch'io Jake ma più che altro l'ho trovato invece un po' a volte sembrava volersi far scivolare via dei giudizi cioè nel senso più di un artista l'ha abbastanza congedato come se non avesse voglia di dire tanto altro non ha elaborato grosse critiche o grosse ma in positivo o negativo non ha troppo elaborato i suoi pensieri a volte diceva vai vai bravo bravo fine sì sì un po' sottotono quindi forse peggiore della puntata lui migliore Emanuele anche secondo me e artisti migliore come si chiama no The Fools The Fools sì secondo me sono stati i migliori però ovviamente sono piaciute anche me le votiz francamente però devo dire loro e Daniel purtroppo il peggiore quindi questo fateci sapere voi migliori peggiori giudici artisti e anche in generale sensazioni come dicevo prima e poi la prossima puntata ha due eliminazioni da questa notizia quindi saremo sintonizzati per vedere una termine vicina mi raccomando supportate il form se vi piace così insomma continuiamo a farlo ma soprattutto se va bene insomma ci divertiamo tutti insieme quindi condividetelo condividetelo anche con amici parenti insomma vai guarda capito ciao ciao ciao